... Avremo l'onore e il piacere e la gioia di avere questo momento musicale. E noi sappiamo che la musica ci avvicina moltissimo a Nier Sanore. E fa svegli che gli angeli in paradiso cadono davanti al frutto dell'agnello. ... dell'Associazione Polifonica Esperia ha un onore stasera di rappresentare qui l'alzambro morale Regina Clarenzis Esperia. È un onore grande far parte di una famiglia. ... 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 il pubblico è interessato, ascolta e viaggia con la musica, più non ci sentiamo motivati. Prima diceva Don Antonio, il maestro conosco Nicolino, che è orgoglioso e superba di essere e con una portata ringrazio i tuoi cuori al sacro, ringrazio il maestro che è cresciuto bene e ora è un'osservazione che voglio fare perché voglio fare in fretta. Grazie Grazie